Ciao a tutti gli spettatori e benvenuti alla nostra sessione di astrologia di oggi. Siamo entusiasti di avere ognuno di voi qui con noi mentre esploriamo le stelle e i loro misteri per scoprire cosa ci riserva il destino. Condividiamo insieme l'affascinante viaggio attraverso l'oroscopo di oggi. Che abbiate una giornata piena di gioia e prosperità. Segno a liete. Oggi vi attende una giornata straordinaria, illuminata dal sostegno incondizionato delle stelle. Questa rara connessione cosmica vi donerà la straordinaria capacità di comprendere profondamente la persona amata, specialmente se state esplorando una nuova relazione. L'atmosfera magica che avvolge questo giorno vi consentirà di condividere momenti preziosi e di comprendervi a vicenda da prospettive uniche. Per coloro che sono attualmente single, sentirete il desiderio di esplorare l'amore e tutto ciò che vi circonda con maggiore chiarezza. Giocate le vostre carte con coraggio. Sul fronte lavorativo, si prospetta un momento eccezionale per avanzare nella vostra carriera, con opportunità di aumento di stipendio. Oggi si prospetta una giornata positiva, suggerendo che gennaio porterà nuove opportunità. Se hai attraversato momenti difficili, è ora di recuperare lentamente, ma il futuro sembra più promettente, con emozioni significative in arrivo. Secondo Paolo Fox, la tua energia oggi sarà contagiosa, mettendoti in uno stato d'animo pronto per una nuova avventura. Approfitta di questa giornata per conoscere nuove persone e ampliare le tue connessioni sociali. Segno Toro. Venere è nel tuo segno, portando cambiamenti nelle dinamiche lavorative con nuove responsabilità e decisioni in arrivo. Il tuo umore positivo è un vantaggio. Secondo l'oroscopo del Toro di oggi, è il momento di liberarti dalle paure e insicurezze che ti frenano. Avrai l'opportunità di implementare nuove strategie per risolvere problemi in sospeso. Sul fronte lavorativo, ti verrà assegnato un compito più importante per dimostrare la tua competenza. Nelle relazioni, mantieni un equilibrio tra vita professionale e personale, evitando di trascurare nessuna delle due. Domani sarà una giornata un po' più tranquilla. Alcune coppie potrebbero sperimentare tensioni occasionali, ma è importante mantenere la calma. Evitate di alimentare nervosismo tra voi e il vostro partner, considerando che il cielo grigio in questo periodo dell'anno potrebbe amplificare la vostra critica reciproca. I single potrebbero affrontare una giornata meno positiva sotto l'influenza di alcune stelle capricciose. Vi sentirete un po' esvogliati e fiacchi durante la giornata. Sul vero, persante professionale, le stelle sfavorevoli potrebbero causare alcune tensioni e disaccordi con colleghi. Segno gemelli. Oggi l'intraprendenza sarà protagonista, segnando la fine di un periodo di apatia e difficoltà. Secondo Paolo Fox, i gemelli avvertiranno il desiderio di rompere la routine e sperimentare qualcosa di nuovo. È il momento ideale per imparare o dedicarsi a un hobby desiderato. Sul lavoro, sarai in grado di trovare soluzioni innovative e consolidare la tua posizione nel teen. In amore, sii sincero con il tuo partner per evitare malintesi. L'oroscopo del 13 gennaio prevede una giornata discreta e leggera. Avrete il desiderio di infondere nuova energia nella vostra relazione affettiva. Se avete recentemente iniziato un percorso con qualcuno, il rapporto sarà avvolto da una romantica dolcezza. Per i single, le stelle creeranno un'atmosfera magica e suggestiva. Sul fronte lavorativo, gli influssi astrali saranno preziosi per esplorare nuovi approcci e inventare modalità innovative di lavorare. Potrebbe anche arrivare una nuova opportunità professionale oggi. Segno cancro. Con la luna favorevole, Paolo Fox predice cambiamenti e trasformazioni personali per il cancro oggi. È il momento di riflettere sulle tue priorità e prendere decisioni per migliorare la tua vita. Sul fronte lavorativo, esprimi le tue idee e dai vita a progetti in un ambiente stimolante. In amore, non temere di esprimere i tuoi sentimenti e condividere i tuoi pensieri con il partner, specialmente dopo un inizio d'anno complicato per molti. Domani, le stelle vi offriranno un regalo di sensualità e passione. I vostri pensieri assumeranno tonalità romantiche e il vostro partner sarà desideroso di condividere ogni istante libero tra le vostre braccia. Concedetevi una notte di passione appassionata. Per i single, Venere renderà l'amore più libero, incoraggiandovi ad esprimere i vostri sentimenti con calore e passione. Ci sono numerose opportunità di incontri romantici in vista. Sul fronte lavorativo, la giornata sarà intraprendente e ricca di idee. Sfruttate le vostre esperienze passate per emergere con successo. Segno leone. Sotto l'influenza benefica della luna, oggi è un momento ideale per dedicare attenzione alle persone a voi care. Approfittate di questa giornata positiva per dialogare con il vostro partner, condividere segreti e creare un legame più profondo. Il vostro atteggiamento positivo verso la vita sarà una risorsa preziosa, aprendo nuove opportunità e permettendovi di incontrare persone affascinanti. Grazie alla vostra intelligenza e abilità comunicative, supererete gli ostacoli con facilità, sia nella sfera personale che professionale. Sul fronte lavorativo, dimostrate le vostre qualità e accettate nuove sfide con fiducia. La maggior parte dei leoni noterà una notevole differenza rispetto a qualche mese fa, con nuove e promettenti possibilità in arrivo. Nel campo sentimentale, una nuova storia d'amore porterà calore al vostro cuore, offrendo la soddisfazione, il piacere e un'armonia fisica perfetta che avete sempre sognato. Tuttavia, è importante rimanere ancorati alla realtà per evitare dubbi inutili. Se state vivendo i primi capitoli di una nuova storia d'amore, sappiate che potrebbe essere la relazione che avete sempre desiderato. Per i single, la giornata si presta bene a incontrare nuove persone. Segno Vergine. L'oroscopo di oggi sottolinea che Venere sarà dalla vostra parte, offrendovi la spinta necessaria per prendere decisioni importanti nella vostra relazione. Sentirete il desiderio di ravvivare la passione e potrebbe essere il momento perfetto per avviare una relazione sentimentale a lungo termine. Se siete single, l'astrale favorevole renderà la giornata propizia per nuovi incontri. I rapporti familiari saranno sereni, contribuendo al vostro benessere emotivo. Sul fronte lavorativo, la giornata si prospetta positiva, con la possibilità di gestire il budget con saggezza e godere di un equilibrio finanziario senza eccedere nei piaceri materiali. Oggi sarà propizio per esplorare il vostro lato emotivo, capendo meglio gli atteggiamenti delle persone intorno a voi. Questa consapevolezza contribuirà a preservare le basi positive delle vostre relazioni sentimentali. I single saranno particolarmente attivi e dinamici, pronti a intraprendere nuove iniziative e a portare una ventata di freschezza nella loro vita quotidiana, sostenuti dall'influenza positiva di alcuni pianeti. Segno bilancia. Questo sabato porta un lieve miglioramento nelle vostre energie. La pace tornerà nel vostro ambiente domestico, mentre la creatività vi guiderà verso il successo professionale. Per i single, potrebbe essere il momento di riconnettersi con qualcuno incontrato durante i viaggi. Se desiderate apportare cambiamenti, non esitate a fare il primo passo. La vostra carriera e la vostra immagine sociale saranno al centro dell'attenzione, promettendo successi in tutte le attività. Con una solida fiducia e determinazione nell'ottenere i vostri obiettivi, raggiungerete il successo desiderato. Le opposizioni planetarie hanno causato qualche turbamento nella vostra vita ultimamente, quindi state attenti a non reagire eccessivamente. In giornate come queste, potreste sentirvi scoraggiati riguardo al vostro percorso fino ad ora. La vostra natura meticolosa potrebbe trovare difficile gestire situazioni astrologiche turbolente, ma contate sulla vostra sicurezza interiore e sulle capacità organizzative per mantenere la calma. Sul fronte lavorativo, evitate di assumere il ruolo di vittime e affrontate i progetti con determinazione, anche se le cose non procedono come vorreste. Nonostante gli impegni, mettete energia nell'uscire da situazioni complesse. Segno Scorpione. Per lo Scorpione, le stelle si allineano favorevolmente, portando emozioni positive e sentimenti sereni. La fortuna aprirà la strada a nuove amicizie e risolverà eventuali divergenze di coppia. Il successo vi accompagnerà anche nelle relazioni già esistenti. La giornata si preannuncia positiva sia sul fronte lavorativo che educativo. Se avete affrontato sfide professionali, la ricompensa per i vostri sforzi è in arrivo. Non trascurate i dettagli se avete incarichi importanti al lavoro, poiché la vostra attenzione minuziosa sarà la chiave del vostro successo. L'opposizione a Venere potrebbe causare turbamenti nelle relazioni già esistenti, ma i single possono sperimentare dubbi legittimi sulla loro vita sentimentale. Nonostante ciò, questo impulso romantico vi spingerà a sognare e esprimere i vostri desideri con creatività e sensibilità. Sul fronte lavorativo, il periodo è caratterizzato da produttività e dinamismo, con uno spirito sereno che vi condurrà al successo. Preparatevi a impegnarvi con determinazione per portare a termine le vostre attività con successo. Segno sagittario. Il 13 gennaio, l'oroscopo prevede una giornata di stabilità con l'opportunità di agitare il vostro ambiente abituale, poiché molte situazioni sembrano evolversi in questo periodo. La noia potrebbe diventare un avversario da sconfiggere, e per farlo, potreste cercare di infondere più energia nel vostro tempo libero. Create attività e hobby che vi appassionano, utilizzandoli come fonte di ricarica. In una fase di grande energia cosmica, tenete presente che Giove è oggi dalla vostra parte, spingendovi a cercare una nuova direzione. Molti di voi potrebbero percepire l'assenza di limiti e il cambiamento dei punti di riferimento nel destino. Secondo le proiezioni astrologiche, sebbene ci sia molto da fare, noterete anche un aumento delle responsabilità sulle vostre spalle. L'oroscopo di oggi prevede una giornata ricca di fortuna. La vostra creatività e il vostro ingegno saranno in evidenza, soprattutto se lavorate nei settori della comunicazione, delle relazioni pubbliche, dell'arte o della tecnologia. Sfruttate al meglio i vostri talenti innovativi, particolarmente utili nei campi che più vi appassionano. Sul versante romantico, mantenete viva la fiamma del vostro rapporto, dialogando piacevolmente con il vostro partner senza tralasciare eventuali chiarimenti necessari. Segno capricorno. L'influenza negativa della luna e di venere può turbare la vostra calma, impedendo di esprimere apertamente i vostri sentimenti a coloro a cui tenete. La comunicazione e il confronto possono aiutare a risolvere anche le situazioni più difficili, ma attenzione ai malintesi che potrebbero alterare l'equilibrio. Domani potrebbero sorgere frustrazione e noia, ma la coerenza e l'onestà saranno chiavi per mantenere la serenità. Affrontate le sfide sul fronte lavorativo basandovi sulle alleanze passate, superando le piccole difficoltà con saggezza. In questo periodo dell'anno, la vostra tenacia raggiunge l'apice, dimostrando il vostro potenziale sia nella vita personale che professionale. Tuttavia, oggi potrebbero emergere leggere agitazioni sul fronte lavorativo. Preparatevi a ciò in anticipo e cercate di evitare di acquire la situazione. La vostra compatibilità coniugale potrebbe essere messa alla prova, e nuove questioni legali potrebbero presentarsi. Potreste sentirvi irritati dagli atteggiamenti delle persone intorno a voi, anche se preferirete mostrare indifferenza. Sul lavoro, affrontate con calma e equilibrio le sfide dei vostri concorrenti, evitando il panico. Segno acquario. Questo sabato, la luna in cancro porta uno stress generale e situazioni invadenti possono causare disagio. Anche a casa potrebbero sorgere problemi, con la luna che genera confusione. Al lavoro, potreste sentirvi meno determinati del solito, manifestando ansie difficili da gestire. Evitate la confusione e cercate di mantenere la calma. In amore, i pensieri legati al lavoro possono generare ansia, complicando la situazione con il partner. La giornata odierna promette soddisfazioni professionali, accogliete quindi con favore le nuove idee. Se dovete apportare cambiamenti, valutateli attentamente, specialmente nel periodo in cui Giove sarà attivo fino a metà maggio. Il cielo si presenta sereno, con la tripletta Marte-Saturno a favore, ma attenzione alla luna in cancro e alle sue vibrazioni negative. Sarà probabile che siate gentili e socievoli con nuove conoscenze, mentre potreste essere impazienti con quelli che conoscete da tempo. In ambito amoroso, la vostra disposizione sarà gentile e allegra se siete in una nuova relazione, mentre potreste apparire seri e severi se siete in una coppia afflitta dalla noia o dall'abitudine. Preparatevi a sfruttare abilmente alcune risorse, poiché un miglioramento della situazione finanziaria è in arrivo. Segno pesci. Il 13 gennaio si prospetta come una giornata positiva per l'oroscopo dei pesci. Se avete voglia di agire, cercate di canalizzare questa energia in attività costruttive. Dedicate del tempo a riparare eventuali rapporti in crisi. Sul fronte lavorativo, affrontate le sfide con filosofia e calma per qualche giorno. In amore, mettete alla prova la pazienza del partner senza pretendere troppo, cercando di trovare un equilibrio nelle vostre richieste. Oggi, sabato 13 gennaio, l'oroscopo punta sul divertimento. La luna in cancro, in armonia con venere e urano, promette una giornata di auspici positivi. Le problematiche protratte nel tempo si risolveranno agevolmente, sia sul fronte lavorativo che in amore. Vecchie questioni sul lavoro si dissolveranno senza sforzo, aprendo la strada a un successo inatteso. Anche in amore, coppie e single vedranno risolte le difficoltà, lasciando spazio a sentimenti positivi e felicità. La pace e il sorriso torneranno finalmente a brillare sui vostri volti.